Ho sentito un prusci, un qualcosa, però non immaginavo che stava venendo giù tutta quella arcata del chiostro. Per noi certosini è un po' come, non vorrei dire, ma come la Mecca per gli arabi, nel senso che è la nostra radice, questo è un punto per noi strategico, era proprio dove si fonda certosa e vederla ridotta così fa male, fa molto male. E poi comunque c'è anche il problema di altre famiglie sfollate, oltre a quelle di Via delle Tofane ci sono anche delle famiglie che verranno evacuate. Qua quante famiglie saranno sfollate? Credo siano intorno alle 6-7 nuclei, ora poi verificheremo.